Amici del Tubbo, ciao a tutti! Sto registrando questo video, sono le sette e mezzo da Palermo, dove oggi queste 40 gradi si sono sfiorate e io purtroppo sono così, come che si dice. Sto mangiando fuori, ho preparato fuori un piatto veramente fresco, molto fresco, ve lo faccio vedere. Pasta con fagiola bella calda e zucchina di tenerumi, vedete? Vedete? Signore mio, signora Cossè, qua non andiamo a mangiare che poi la fagiola finisce, giusto? E vediamo com'è, ecco ve la faccio vedere, questa si chiama fasola ancerata, eccola qua, ve la faccio vedere. Ma che? Questa sera mi do delle arie, ogni tanto ci vuole darsi delle arie e io me li posso dare le arie solo mangiando fagioli. Non sono come uccettone dei miei parenti, ma che bella, caccia la pentola, perché me l'hai mangiata tutta la roba, faccio vedere. Faccio la pentola, caccia il lavuta, caccia il lavuta, caccia il lavuta, caccia il lavuta. Ci ho messo la zucchina, la cipolla, ma che mi venne? Ha un gusto molto particolare, ho venuto da con moglie prima che ci va con qualche muscone. E mancia pure il ruido, capito? Così sono tutti contenti, rose, poi giusi. Cosa hai mangiato? Fuoco sta pegando, la tovaglia, aspetta. La metto già. Ce l'hai tu qua il telefono, quindi quello è quello mio? Chi dottor. Ho capito? Quindi pasta con fagioli, viene il cuore, signori miei, guarda, è bella calda, sto facendo raffreddare. Signori, dice, ma la pasta è scura, è integrale, ve lo ripeto, perché se no avesse stato bianca. Guardate la zucchina, presa con i fagioli. Così, l'hai mangiata? Non si può spiegare. Come la pasta con i tenerumi, i tenerumi sono d'estate, ne manciamo un tommienno? E' tutto sbagliato. La zucchina fresca, dei tenerumi, è d'estate, si abbina bene con i fagioli. Io spesso con i fagioli faccio fagioli e finocchietto, capito? O fagioli con zucchina. Amo i tiki dai, mai la zucchina quella lunga? Quella che cresce qua, la zucchina dei tenerumi. Tu capisci? Ora vi saluto, così perché c'è persone che non ci credono che io mangio le cose. 40 gradi ci sono fuori. E intanto fici la pasta. Che c'è, Pino? Non la vuoi? Perché non la vuoi? C'è caldo. Ho capito. Nel frigorifero c'è messo il lucchietto. Quindi, o ti mangio i samini o niente. Ok, Pino? Perché io non posso cucinare sempre tutto quello che desideri tu, Pino. Pure io devo mangiare le cose che mi piacciono. Chiaro, Pino? Che sia chiaro. Vai mangiando il tuo suolo. Vai a vedere se tutti fanno trovare qualche brociolottino. Vai. Una buona serata a tutti dalla signora Titina. E buona cena per me e per chi deve cenare anche per voi. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.